Domani ultimo round di questo campionato, giocate in casa con il Palermo, una partita molto importante da vincere per consolidare il secondo posto. Domani ultima partita, diciamo che non per ultima, ma per essere la più importante del campionato. Abbiamo bisogno di vincere assolutamente per consolidare il secondo posto, il quale ci permetterà poi di accedere agli spareggi per il doppio salto nella promozione. Questo Palermo è un avversario abbordabile oppure ci sono delle insidie? Una squadra ostica, sicuramente non riflette anche quello che sono i punti in classifica, è una buonissima squadra, molto giovane, con un allenatore che fa giocare bene, con qualche innesto di esperienza. Sicuramente noi, indipendentemente di tutto, noi siamo in crescita dopo il seguito degli infortuni, sia quello mio che di Festino, che ci stiamo riprendendo e cercheremo di fare il meglio per portare i due punti a casa. Ne approfitto intanto anche per fare un chiamato anche a tutti, che aspetteremo il pubblico delle ante occasioni perché questa squadra, questa società se lo merita, perché dopo tutti i sacrifici che stiamo facendo è arrivato il momento di giocare tutti quanti la nostra partita per cercare di portare in alto la canicatticcia e Sissica dove merita. E' un campionato, quello che avete disputato, che rispecchia in pieno quelli che erano i programmi, le ambizioni di questa società oppure siete andati oltre? Allora, diciamo che abbiamo fatto un grandissimo campionato, ora mancano 40 minuti alla fine di questa stagione, la prima parte, speriamo di concludere in migliori modi anche perché abbiamo solo il risultato, quello della vittoria, perché l'altra formazione che insieme a noi occupa il secondo posto è Balestrate, anche se noi abbiamo la differenza canestri a favore, perdendo noi e vincendo loro passerebbero loro alla fase finale, quindi è obbligatorio vincere. Gli sforzi poi sono, diciamo così, ai spareggi? Sì, ci sono praticamente poi la seconda fase, è composta da due partite, giocheremo arrivando secondi, giocheremo contro la prima e l'altro girone, due partite, andate e ritorno con la differenza canestri, chi vince passa poi alla fase degli spareggi con la Serie C2 per poi andare in G1. Una canicatticistica, ovviamente parlando, che sta riacquistando di nuovo quelle posizioni che ha perso negli anni passati. Sì, il grande risultato, oltre al discorso della Serie D che stiamo facendo questo campionato, è a livello giovanile, dove Beto Manzo ha ricostruito tutto il panorama, cioè veramente è partito da zero, più che è ricostruito, facciamo diversi campionati, tre campionati giovanili, l'Andre 14, 15 e 17 con ottimi risultati, quindi stiamo ripartendo da zero e cerchiamo di costruire per il futuro. Grazie a tutti.